Sabato sono stati tanti i fedeli che hanno partecipato alla veglia pasquale presso la chiesa di San Sebastiano a Mistretta. La celebrazione è iniziata con la benedizione del fuoco, Cristo fuoco che divampa, e quindi si è proceduto con l'accensione del cielo pasquale, portato in processione verso l'altare seguito dal popolo. Dopo la benedizione della luce vi sono state le letture che hanno anticipato il bellissimo momento dell'annuncio della resurrezione di Gesù con la caduta del telone che ha mostrato il trionfo di Cristo risorto. Certo, questo momento non ha avuto lo stesso effetto della caduta dell'artistico telone presso il santuario della Madonna dei Miracoli, ma a causa dei lavori che interessano l'edificio sacro, i fedeli dovranno aspettare il prossimo anno per rivivere questa emozione. Quindi ha avuto luogo la celebrazione della liturgia battesimale legata fin dai primi secoli della chiesa alla notte pasquale. Nel ricordo del battesimo si rinnova con gioia l'impegno a seguire il Signore e a testimoniare con coerenza la fede. Tutto culmina nell'Eucarestia, sacramento per eccellenza della Pasqua, si tratta dell'Eucarestia centrale di tutto l'anno, in cui Cristo ci fa partecipi della sua carne e del suo sangue come memoriale della sua Pasqua. Durante la sua omelia, Monsignor Michele Giordano, arciprete di Mistretta, ha ricordato che Cristo, morendo, ha preso su di sé la nostra morte ed è risorto per ridonarci la vita nuova della grazia dei figli di Dio. In questa veglia la madre chiesa, ha detto padre Michele, ci ha fatto comprendere Cristo, che è luce del mondo, la luce che risplende nelle tenebre. Cristo vuole che viviamo in noi il mistero della sua morte e resurrezione e noi siamo chiamati nella notte della veglia di Pasqua a rinnovare le nostre promesse battesimali, a rinunciare al peccato, a vivere nella fede del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a vivere nell'amore perché siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Nell'impegno di camminare nell'amore, conclude l'arciprete di Mistretta, si deve essere comunità viva, che cammina nell'unità e che si impegna come le pie donne a regare a tutti l'annuncio di Cristo risorto.